Ciao a tutti! Oggi prepareremo i broccoli al gorgonzola gradinati. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono broccoli, pan carré, farina, latte, burro, gorgonzola, aglio senza anima, prezzemolo, noce moscata, sale, pepe, parmigiano, acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere il pan carré, l'aglio e il prezzemolo e tritare per 10 secondi a velocità 4. Mettere da parte senza lavare il boccale mettere l'acqua un cucchiaino di sale chiudere con il coperchio posizionare il varoma chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti temperatura varoma velocità 2 trasferire il broccoli in una pirofila e svuotare il boccale senza lavare il boccale mettere il latte il burro e la farina ed azionare il bimbi per 7 minuti 90 gradi velocità 4 aggiungere 100 grammi di gorgonzola il sale la noce moscata il pepe ed amalgamare per 3 minuti a velocità 5 versare la salsa sui broccoli aggiungere dei pezzetti di gorgonzola aggiungere dei pezzetti di gorgonzola spolverizzare con il pan carré cuocere in forno per riscaldato a 200 gradi per 15 minuti broccoli e gorgonzola gradinati grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti 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 grazie a tutti